Tempi duri per la pesca. Fra chi esce in barca e viene messo in ginocchio dal caro gasolio, fra chi il pesce lo deve vendere e ne ha disposizione sempre meno se le barche decidono di fermarsi, e sono tempi duri anche per il consumatore, che non trova pesce fresco o lo trova a prezzo ritoccato. La grande pesca ha incrociato le braccia scioperando da giorni, la piccola pesca ha provato ad allinearsi ma fermarsi diventa insostenibile, come spiegano i pescatori che gravitano al mercato del pesce del porto di Pesaro. L'aumento del gasolio anche a noi ci dà una bella abbassata di guadagno, anche come i camionisti, come tutti quanti, però noi facciamo una pesca che non stiamo in mare, buttiamo le reti e andiamo il giorno dopo a riva, non andiamo a largo. Come le vongolare anche noi consumiamo al massimo 100 litri al giorno di nafta, non è come queste barche grosse che consumano 1000 litri al giorno e passa. Ci incide, ma se ci fermiamo anche noi andiamo sempre più giù, mentre loro hanno avuto anche i soldi, i contributi allo strascico e gli danno qualche soldo, anche se poco glielo danno. Noi ci siamo fermati un giorno, poi abbiamo visto che noi non prendevamo niente, è meglio che lavoriamo, se no andiamo sempre più giù. Diciamo c'è questo sciopero che è partito soprattutto dalla categoria dello strascico, sembrava inizio settimana che coinvolgesse anche la piccola pesca, ma poi in realtà siamo stati fermi il lunedì, perché dopo poi ci siamo sentiti con altri compartimenti, Senigalli e Ancona, la piccola pesca ha riniziato l'attività. Perché sì, seppure il gasolio costa tanto, per noi qua ci stiamo dentro, noi consumiamo poco, in un anno la nafta che faccio io, loro probabilmente la fanno in due settimane e quindi è giusto che ognuno guardi le tasche su, nel senso che uno sciopero non puoi tirare dentro tutti, siamo tante categorie diverse e non siamo tutti uguali. Io che pesco le retine non sono uguali a uno che pesca le vongole, non sono uguali a uno che va allo strascico, non sono uguali a uno che pesca gli ami tonni e quindi loro io penso che facciano bene a scioperare, perché io capisco che per loro è diventato insostenibile, però per voi sarebbe insostenibile il contrario decidere di fermare. Io non posso fermarmi adesso, io non posso fermarmi, cioè non posso ma poi non vedo il motivo. Le conseguenze della situazione al mercato del pesce è che non mancano giorni di banchi vuoti per conciliare anche le esigenze delle pescherie. Quando i banchi sono invece forniti ci possono essere fisiologiche variazioni di prezzo. Pesce c'è pochissimo perché tanto noi, quello che peschiamo noi in un giorno, loro lo pescono in un'ora, perché hanno mille cavalli, delle gabiche, capito? E in più l'importazione sarà sempre più avvantaggiata perché la gente dopo compra il pesce congelato, sul gelato, quello è un peccato. Nel nostro piccolino, dai, qualche famiglia la contentiamo, ma è una goccia nel mare proprio. Il pesce, il prezzo del pesce lo fa il mercato, lo fa la richiesta. Viene a meno il pesce, aumenta la richiesta e il prezzo e un pelarino aumentano. Però ci siamo ritrovati da dieci giorni a questa parte che io molti giorni non sono neanche riuscito a aprire la caretta, perché comunque pesce vendoli, la gente vuole il pesce fresco, però ci sta lavorando bene, ci sta lavorando.